Sono almeno 4 le persone arrestate martedì nella Germania sud-occidentale, nell'ambito di un'indagine contro una rete di presunti trafficanti di esseri umani. Dalle prime ore del mattino, la polizia tedesca ha perquisito 24 appartamenti a Mannheim, Karlsruhe e Worms. La banda, composta in tutto da 7 membri, avrebbe fatto entrare illegalmente in Germania migranti provenienti dal Caucaso e dall'Oriente, per poi farli lavorare senza permesso di soggiorno. Un totale di 400 agenti sono stati impiegati nell'operazione, che ha coinvolto la Polizia Federale, l'Ufficio del Pubblico Ministero e quello delle Dogane. All'inizio del mese, la Germania ha rafforzato ed esteso i controlli temporanei alle frontiere. L'obiettivo delle nuove misure restrittive è quello di contrastare proprio l'immigrazione irregolare, riducendo il numero di persone che entrano nel paese senza visto.